Ciao a tutti, oggi porto il trade, porto questo che con le carte un po' muffa e questo che è il trade, veramente, trade veramente trade, lol Per chiunque venga domenica, cioè per chiunque ha sentito protocarts che domenica vada l'Odin, non vado perché vado a vedere la Juve a Parma, yeah Ok, iniziamo tra Max G, base Rabbit Conigli non li do, li posso dare Super, qua ce ne sono due, uno Super e uno Ultra Base Invector, senza che sto a dilungarmi troppo, Mooling Glaccia non lo do Cerco una base Agent, intanto vi dico un po' che guardate Cerco, cerco una base Agent, sì, se non c'è nella base, questo non lo do E se non c'è nella base un Dai Gusto Phoenix e un BLS, sempre se non ci sono nella base, altrimenti se lo avete tutti insieme Non li do 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 Nobleman Parallel Forse Fate offerte Comunque il cerco è un Abyss Megalo, la base Agent, se non c'è nella base un BLS e un Phoenix E Ultimate Secret da Abyss Tutti e tre Super, non li do E boh, nient'altro cerco Sì, ho detto un Megalo, che mi serve per finire Mermail Questo era il primo trade, passiamo al secondo, con le carte un po' buffa diciamo Dopo vi posto la tecnica fa il deliro, eh Base Spellbook, meglio quello che rimane Tre Secret Ultra, tre di Power Tre uno di questo, poi Qua volendo posso procurare tre Thunder Seahorse Il terzo ce l'ho da qualche parte Base Plant Vabbè, sono mini basi Base Mermail Cioè le comune e le rare Perché le linde, le sfere, così ce le ho Ce le ho nel mazzo Come ho detto, cerco un Megalo urgentemente per finire Mermail E mi è arrivato Mermail Un altro giorno dall'utente di Facebook Con questa Ultimate Ah, queste basi senza che sto a dire le do insieme Mermail Non lo do E senza Fondo Trasher sono anche uno E poi qua Carta firmata da 9 di Shining Bellissimo, non la do assolutamente E questa è sempre fatta da lui Bellissimo, non la do Questa è la pagina delle carte autografate dagli utenti Nient'altro Nient'altro Sono contenta perché ci ha messo poco a fare il video Quattro minuti Così carica prima E niente Ciao Ciao E alla Deck Profile Che avverrà subito dopo questo video dell'Iro Ciao ciao